Ciao ragazzi ben ritornati siamo su Fortnite Oggi abbiamo delle big news Delle news interessanti raga perché avete visto che Epic Games ha messo in mezzo questa volta il famosissimo DJ Marshmallow Sono solo iPad Pro ma tanto oggi devo parlare quindi prestate attenzione Ci sono delle cose molto carine in arrivo ovvero evento DJ Marshmallow e anche evento terremoto Parliamo di queste due cose oggi in questo episodio di oggi So che molti di voi sicuramente avranno già visto che ci sarà questo evento svelato con il DJ Marshmallow nel game Ma oggi discutiamo soprattutto della skin di Marshmallow E mi raccomando raga vi farebbe un sacco piacere se tutti quanti poi a fine video andaste a vedere il video che ho caricato invece sul secondo canale Tech Un video molto carino riguardo ai nuovi corrieri elettrici Vi lascio poi qua sotto il link oppure la scheda qui sopra cliccabile Mi farebbe un sacco un sacco piacere se poi vi guardate quel video Andiamo allora vi farò vedere qualche immaginetta infatti partiamo subito con la prima Boom Eccola qui ragazzi l'immagine di quelle che dovrebbe essere l'evento di sabato 2 febbraio alle ore 20 italiane Un nuovo evento nel game dove esattamente qui a parco pacifico Guardate ragazzi stanno simulando praticamente la vita reale nel gioco Perché stanno allestendo il palcoscenico per l'evento di Marshmallow Ripeto sabato 2 febbraio alle ore 20 Like se volete una live sul mio canale Ci può stare raga che ne dite? Guardate stanno allestendo praticamente tutto Ma tutto Quindi ogni giorno che passa fino al 2 febbraio dopo domani Vedremo insomma questo palcoscenico completato Ma attenzione ragazzi perché voglio parlarvi di una cosa importante in questo video di oggi Perché voi direte a quanto pare ci sono tre sfide Una dice di ballare con Keep It Mellow In un osi di camion In un ice cream parlor Quindi penso in una gelateria E in un lago ghiacciato Frozen Lake Stage 1 Danza su un segnale di stop per i camion Stage 2 Danza in cima al nuovo ristorante d'arburger E final stage balla su un palcoscenico Seconda missione cerca un poster Showtime E terza missione cerca un stabilimento Showtime Penso che con poster si intenda proprio questo Che saranno dei poster sparsi un po' per invitarci all'evento ok? Mentre lo stabilimento dello Showtime Dove ci sarà insomma la festività La festa insomma Penso che si intenda esattamente qui Dove andrà a ballare Dove ci sarà proprio il piccolo personaggino Del DJ Marshmallow Che cosa sbloccano queste sfide? Come avete visto anche in queste immagini Sbloccheremo lo spray di Marshmallow sicuramente La danza come state vedendo E poi abbiamo anche un piccone Che è questo qui Bellissimo Oggetto 3D fatto bene Guardate che figata Tra l'altro è tipo un altoparlante Se vedete sotto c'è la cassa Ma la cosa importante di cui volevo parlarvi è La skin di Marshmallow Ci sarà tra i premi? Ragazzi si dice di no Mi sa che la skin di Marshmallow che state guardando qui Sarà semplicemente l'NPC Che starà lì per l'evento Quindi il personaggino che starà lì fermo praticamente Immagino in questa zona qui suonando Ok? Con i vari strumenti musicali Si dice che non sarà nemmeno nello shop Non è confermato ma dovrebbe essere così Sarebbe una figata in realtà avere questa skin Ma non penso che sarà disponibile per tutti noi Mentre l'altra cosa di cui volevo parlarvi L'altra cosa di cui volevo parlarvi invece riguarda L'evento Earthquake L'evento terremoto trovato nel game dai leakers Ragazzi questo O meglio questa Dovrebbe essere un'importantissima Informazione per quanto riguarda l'inizio della season 8 Mi sa che la season 7 terminerà con un terremoto nella mappa Immaginate un terremoto come evento finale della season Sarebbe figo vero? E avete visto anche le nuove skin svelate Nella patch E anche tutte le versioni Del nuovo Della nuova skin svelata Delle sfide neve Dovrebbero essere tutte queste qui E il che è una figata E tra l'altro il terremoto mi rimanda molto a vulcano Perché si parla ancora Raga di vulcano Guardando anche questa sorta di lava Sul corpo della skin Delle sfide neve Raga la facciamo la live il sabato? Che ne dite? E vi lascio qui il video qua sopra Andate a vederlo Sul nuovo canale Amer Nur Ciao ragazzi